Torna l'incubo delle polpette avvelenate a San Benedetto del Tronto. Negli ultimi giorni si è registrato infatti il decesso di alcuni cani e di un'intera colonia felina nell'area ad ovest della statale, tra la zona della salita dei leoni e l'area bruglia. Nel giro di poco tempo sono morti almeno tre cani tra via Marradi, via Fusinato, via Murri e via Scesa, mentre una colonia di gattini è stata letteralmente sterminata in via Fusinato. Uno degli animali morti, sono deceduti comunque tutti con gli stessi sintomi, è stato fatto esaminare all'istituto zooprofilattico di Fermo, dove sono state riscontrate tracce di stricnina, antiparassitari, insetticidi e pesticidi, il che confermerebbe che c'è qualcuno che sta lasciando dei bocconi avvelenati lungo le strade di quella zona. I padroni degli animali deceduti hanno chiesto aiuto ad un legale che con quei dati alla mano ha presentato regolare denuncia ai carabinieri forestali. I militari si sono subito messi al lavoro effettuando alcuni sopralluoghi in seguito ai quali non sarebbero però state trovate esche o polpette. Sono comunque stati allertati i residenti della zona e invitati a prestare la massima attenzione nonché a segnalare l'eventuale presenza di polpette o bocconi sospetti lasciati lungo la strada.